Dopo aver provato tutti i firmware per i nostri droni FPV, devo ammettere che Betaflight è forse il più complicato, specialmente per tutte quelle versioni successive alla 4.0, firmware dal quale sono state introdotte tante migliorie che oggi l'hanno portato effettivamente a volare quasi alla pare di Flight 1 e KISS. Ho visto che in rete ci sono molti video che riguardano la configurazione dei vostri droni FPV, ma pochi video che vi mettono effettivamente in condizione di districarvi all'interno del configuratore, quindi di capire a che cosa ogni funzionalità va a corrispondere per appunto agire voi stessi senza bisogno ogni volta di consultare una guida. Quindi quello che faremo oggi è farci una chiacchierata e una passeggiata all'interno dell'ultimo configuratore di Betaflight con la versione 4.2.8. Non sto provando una beta 4.3 ma l'ultima stabile disponibile e vi parlerò anche di quelli che sono i piccoli trucchi che io ogni volta metto in atto quando prendo il drone FPV e lo build. Quindi cominciamo! Ed eccoci qui, sono all'interno di Betaflight, sto utilizzando il configuratore 10.7.0 e sto utilizzando la SpeedBee F7V2 che vi ho fatto vedere nella recensione. Questa al momento non è montata sul drone, la sto utilizzando sul tavolo, semplicemente collegata con la porta USB di tipo C. Vi dico questo perché probabilmente noterete un comportamento anomalo quando poi andrò a cliccare qui su connetti. È connessa la porta COM11 quindi siamo pronti a partire. L'ho aggiornata alla 4.2.8, quindi l'ultima release stabile di Betaflight e andiamo a scoprire che cosa c'è da toccare, come funziona e tutti i sottomenu del configuratore. Andiamo! Una volta che abbiamo cliccato connetti, se è la prima attivazione della scheda dopo che abbiamo flashato, ci verrà mostrato questo messaggio di attenzione con dei problemi relativi alla configurazione, come ad esempio non è stato selezionato alcun tipo di protocollo di output per i motori, questo chiaramente perché gli ESC non sono collegati e anche l'accelerometro è abilitato ma non è calibrato. E questa cosa la andiamo a fare subito ed è la prima cosa che dovete andare a fare quando andate ad attaccare la scheda appena montata sul drone. Ora io lo farò tenendola con la mano, ovviamente non è la cosa più bella che si possa fare ma facciamola ugualmente. Clicchiamo qui su calibra accelerometro e come state osservando questo grafico qui sulla sinistra va a cambiare. Ovviamente ci mostra la prova, ossia l'heading, il pitch e il roll che non è nient'altro che i gradi con il quale il nostro flight controller è orientato. Come state osservando, se io piego in avanti la figura di questo drone va in avanti, se piego indietro va indietro, sinistra e destra. Questa è chiaramente una condizione che noi dovremmo verificare qualsiasi sia il posizionamento con il quale andremo a mettere la nostra scheda. Quindi ad esempio se la montiamo di 180 gradi, in questo modo dovremmo andare ad agire poi su configurazione per far sì che lui veda sempre il drone dritto. Altrimenti chiaramente non andrà a volare, avremo seri problemi a far volare il nostro drone. Qui al di sotto di calibra accelerometro abbiamo un tasto di a zero settaggi che io ho utilizzato adesso prima di fare questo video, un tasto di backup che sostituirà la nostra scritta sul CLI o il tasto di ripristino di un dump precedente. Qui nella parte destra troviamo un box informazioni. Questo mostra ovviamente che al momento la nostra scheda rileva un failsafe, questo perché un RX non è stata al momento saldata e quindi non abbiamo un radiocomando acceso, un voltaggio della batteria di solo 0,01V perché chiaramente io ho solamente la porta collegata e non ho la batteria, la capacità assorbita segnerà chiaramente zero, corrente assorbita RSSI zero perché dovremmo andare ad impostarlo una volta messa una ricevente. Qui su GPS abbiamo il fix 3D, satellite di latino e longitudine e chiaramente una strumentazione simulata che come state osservando ricorda molto quella di un aeroplano. Ma queste cose chiaramente dal momento non le possiamo andare a vedere. Ci spostiamo invece sul tab porte, molto molto importante per far sì che il vostro drone riesca a rilevare le periferiche che andate a montare. Chiaramente come state osservando qui ho sei porte UART, questo perché la mia scheda ha sei porte di questo genere. Non è detto che la vostra ne abbia così tante, magari ne ha di più, magari ne ha di meno, ma andiamo a capire nel dettaglio cosa sono e perché dobbiamo agire su questi toggle qui oppure dobbiamo andare ad utilizzare queste tendine. Allora la porta UART per chi non lo sapesse chiaramente è un insieme di TX e RX, quindi se ad esempio voi avete una ricevente saldata su TX1 RX1 l'avrete sulla UART 1, ossia questa qui. Quindi chiaramente esattamente come vedete nella configurazione abbiamo RX seriale attivato, quindi fate molta attenzione e andate ad attivare le impostazioni nella UART corrispondente, quindi quando avete saldato una cosa se non ve lo ricordate segnatevelo e poi venite qui per attivare il tutto. Questi, diciamo, telemetria, sensore, periferiche sono menu a tendina, menu a tendina che vi faccio subito vedere. Ad esempio mi sono spostato qui sulla UART 2 e vi faccio vedere che su periferiche noi possiamo andare ad esempio ad impostare il protocollo della nostra VTX analogica, ovviamente nel caso noi voliamo con VTX analogica, scegliendo tra un TBS Smart Audio o IRC Tramp, a seconda che chiaramente stiamo usando una VTX Tramp o una VTX TBS Smart Audio di ultima generazione o una compatibile di Smart Audio 1.0, 2.0 o 2.1. Sul sensore abbiamo il GPS o l'ESC, l'ESC in questo caso sulla mia scheda è già abilitato perché abbiamo il sensore di corrente per gli ESC che vanno a collegarsi sull'FC e quindi ci mostrano nel dettaglio il voltaggio e abbiamo addirittura un'uscita per la telemetria. Se utilizzate una ricevente FR Sky ad esempio dovrete mettere Smart Port, però questo è un altro discorso e probabilmente un altro video. Se utilizzate invece una VTX digitale sappiate che la cosa che dovete attivare è questa configurazione MSP, quindi facciamo caso che voi sulla UART 4 avete una CAD X Vista e dovrete andare a fleggare questa configurazione MSP. L'unica accortezza che dovete avere sempre ragazzi è di andare a salvare e riavviare ogni volta che fate un cambiamento all'interno del configuratore. Andiamo adesso su configurazione e ovviamente c'è tanto da parlare. Cominciamo qui dal mixer e dalla prima operazione che io faccio ogni volta che monto un drone FPV, ossia andare a girare la rotazione dei motori. Questo perché con motori al contrario chiaramente saremo facilitati nel caso di crash, specialmente negli alberi perché tenderanno a buttarci fuori rispetto all'ostacolo a cui andremo incontro. Qui su questo menu a tendina, cosa che chiaramente non vi interesserà se state montando un quadricottero, ci sono una serie di possibilità per dire al nostro flight controller che tipo di drone abbiamo assemblato. Nel nostro caso Quad X è più che sufficiente perché, come abbiamo detto, c'è un quadricottero. Qui sulle testa troviamo funzionalità ESC motore che non è nient'altro che il tipo di protocollo ESC motori e c'è da fare una distinzione anche in relazione qui alla frequenza di loop, alla frequenza di aggiornamento del giroscopio e anche al tipo di flight controller che chiaramente state utilizzando. Io la maggior parte delle volte seleziono D-Shot 600, D-Shot 600 che va benissimo in accoppiata a questa configurazione qui, ossia 8 kHz di frequenza di aggiornamento a giro e 8 kHz di frequenza di PID loop. Se, ad esempio, avete un PID loop inferiore come 4 kHz, il settaggio invece consigliato è questo qui, D-Shot 300 o D-Shot 150. In questo caso, come vi ho già detto, è preattivato questo ESC sensor perché c'è il sensore di corrente dagli ESC. Qualora stiate utilizzando poi degli ESC che supportano il D-Shot bidirezionale, quindi, ad esempio, degli ESC a 8 bit BL-Eli S con flashato Jazz Maverick come vi ho fatto vedere qui sul canale, o ESC BL-Eli 32, quindi 32 bit sia con la versione 32.7 che 32.8, potete andare a flegare questa cosa e il drone volerà sensibilmente meglio. Qui in basso trovate poi polimotore, in questo caso è segnato 14. 14 sono i magneti presenti sui motori di un 5 pollici classico. Chiaramente se scendete con le dimensioni, quindi se andate su un 3 pollici o un 2 pollici e mezzo, dovrete mettere il numero 12. Qui il valore gas ha il motore, è fondamentalmente quel valore che il vostro motore ha quando premete il tasto di ARM o quando spostate lo switch dell'ARM. Così di default è 5.5, va bene su quasi la maggior parte dei droni FPV, ma vi consiglio di alzarlo. Questo perché se avete un valore leggermente più alto, avrete meno problemi di prop wash, perché chiaramente il vostro minimo sarà più alto e avrete anche meno rischio di desync. Il consiglio che posso darvi di tenerlo a 7, ma c'è anche chi vola a 9 senza alcun tipo di problema, ma chiaramente tenete in considerazione il fatto che quando siete sottosopra, quindi siete girati di 180 gradi, il vostro drone scenderà leggermente più veloce rispetto al 5.5, ma comunque è del tutto trascurabile. Qui su allineamento scheda e sensori abbiamo la possibilità di agire su quella figuretta che vi ho fatto vedere su setup, quindi di far capire al nostro quad, alla nostra FC, in particolar modo, come è orientata, come l'abbiamo montata, per fargli capire quali sono i movimenti che dovrà andare a fare per compensare eventuali problematiche. Se ad esempio avete un Frog V4 di Firenze Frames, dovrete senz'altro andare a cambiare lo Yo e il Primo Gyro, però questo magari lo vediamo in un video dedicato con un Frog V4. Qui su configurazione di sistema vi ho già fatto vedere l'aggiornamento e il PID Loop, ma vi dico che io disattivo sempre il barometro e il magnetometro. deve rimanere acceso unicamente l'accelerometro e se volete tornare a casa qualora il vostro quad si andasse a girare da qualche parte, vi consiglio di mettere arma a 180 gradi e come vi ho già detto fate salva e riavvia che è sempre meglio. Continuiamo qui con la parte relativa alla ricevente, perché ragazzi è importante capire che se utilizzate un ricevente FrSky va bene sbass, ma chiaramente se utilizzate il Crossfire dovrete cambiare questa impostazione o addirittura se usate FlySky dovrete mettere i bus. Insomma è una cosa abbastanza semplice e penso possiate capirla. Su altre funzionalità potremmo andare ad abilitare l'uscita per la telemetria, l'head strip, l'air mode che deve essere sempre attivo ragazzi sempre, i dynamic filter anche, l'OSD anche chiaramente, lasciateli così di default e non vi sbagliate. Su configurazione beacon di shot potrete semplicemente andare a sostituire un eventuale beeper con il beep dei vostri ESC. La cosa che vi devo assolutamente dire è di usarlo in maniera parsimoniosa, questo perché l'ESC tende a sovriscaldarsi moltissimo e tende quindi anche a bruciarsi. Quindi se avete perso il vostro quad e avete il beacon di shot attivo date sempre piccoli colpettini al switch senza tenerlo acceso per un quarto d'ora perché sennò dovrete cambiare gli ESC. Su configurazione dei beep ci sono tutti gli eventi in cui si andranno ad attivare i beep, lasciateli così e non vi sbagliate. Se ci spostiamo invece su sensori batteria potremo andare a controllare qual è la sorgente monitor, quindi del voltaggio, ossia la sorgente dove la nostra scheda andrà a leggere fondamentalmente il voltaggio. Comunque come è settato su questa scheda è giusto, ADC integrato va bene, mentre su un misuratore di tensione dovremmo andare ad agire sulla scala valore divisore e moltiplicatore solo nel caso in cui il valore letto dalla nostra FC sia differente dal valore letto invece con un controllino di quelli classici che si utilizzano per vedere la lipo. Stessa cosa qui per l'amperometro, ecco fate i vostri calcoli, fate in modo che sia corretto anche perché specialmente qui su stato alimentazione dovrete avere dei valori corretti corretti e questo vi servirà specialmente su droni come un 7 pollici per capire quanti miliampere avete utilizzato perché molto spesso il voltaggio delle celle della vostra lipo non va di pari passo con i miliampere utilizzati, quindi se state facendo un long range e sapete che avete una 4000 miliampere e magari ne volete o potete scaricare 3000 miliampere la vostra cella potrà essere anche a 3,7 ma magari avrete scaricato soltanto 100 miliampere. Adesso vediamo una cosa molto molto chiacchierata, ossia i PID, cosa che secondo me molta gente agli inizi non dovrebbe neanche fare perché specialmente con le ultime release di Betaflight questi droni volano davvero molto bene anche con i PID stock. Però la cosa che io vi consiglio di fare subito ma veramente nell'immediato è disattivare questo dimmin. Questa opzione non fa nient'altro che andare ad alterare in maniera dinamica il valore del derivato, ossia questo qua, ma va a comportare un problema che mi è successo praticamente sempre, ossia il cosiddetto effetto wobbling in inglese, ossia l'effetto galleggiamento, l'effetto bolla che il vostro drone potrebbe avere in condizioni di mid throttle. Quindi via, state sicuri e andate ad agire su questi moltiplicatori, su questi slider. Vado ad attivare la modalità esperto e vi faccio vedere che chiaramente potremmo andare anche a metterli qui al massimo con conseguenze abbastanza importanti sui nostri ESC e sui nostri motori che potrebbero chiaramente andare a bruciarsi. Quindi una cosa che potreste ad esempio fare se volete andare a toccare un po' i vostri PID è giocare con questo guadagno PID, magari spostandolo a 1.2, andare a giocare con il moltiplicatore, questo qui, il master che va a cambiare tutti e tre i valori di proporzionale integrale e derivato e magari abbassare un po' il guadagno di risposta dello stick. Come vedete il fit forward va ad abbassarsi. Chiaramente non esiste una scienza esatta che io possa dirvi qui mentre sto girando il video. Dovete fare delle prove anche in base allo stick fill che volete. C'è anche chi poi utilizza la black box, metodo di PID tuning che a me non piace perché risulta molto impersonale. Il quad, volerà pure perfettamente ma non perfettamente in base a quelli che sono le mie sensazioni tra pollice e indice. Qui sulla destra abbiamo transizione fit forward ossia a quanta escursione del nostro stick andrà ad attivarsi questa cosettina qui. Io di solito lo metto a 0.7 ossia al 70% dell'escursione effettivamente avrò il mio fit forward massimo altrimenti non ce l'avrò. Il busto del gas sempre a 0 non ci serve a niente e per il resto possiamo salvare. Qui su impostazioni profili rate potremo andare a scegliere il tipo di rates tra kiss, race flight e poi sarebbe flight 1 e beta flight o attraverso questi actual e quick rates che sono sempre comunque dei PID dinamici di beta flight che sinceramente non uso. Ora state osservando i rates di tipo stock. Io li ho decisamente più alti sul mio quad da freestyle ma ognuno può sperimentare e mettere quello che reputa migliore. Se poi ci spostiamo su filtri ecco qua che iniziano i dolori perché se non si capisce quello che si sta facendo potrebbero succedere cose come quelle che vengono segnalate qui ossia causare fly away danni ai motori o un malfunzionamento. Il fly away inteso come lo intende beta flight sia come può succedere con un qualsiasi drone dji non ci sarà. Semplicemente il vostro drone andrà a fare dei saltelli strani e non sarà perfettamente manovrabile con il gas basso. Qui io solitamente metto 1.5 con gli ESC BL e gli 32 chiaramente se ho messo la pvm frequency a 48 kHz chiaramente se il demag è low e chiaramente se il timing dei motori è o 23 o auto però questo è già un tuning un po più approfondito. Sappiate però che se utilizzate ESC come i Mamba o comunque ESC da 8 bit dovrete scendere e io ho fatto delle prove e intorno a 1.2 1.3 è il massimo a cui riuscirete ad andare. La cosa che fa chiaramente questo moltiplicatore qui è meno filtraggio. Meno filtraggio significa che tra virgolette sto volgarizzando quindi non prendetevi queste parole in maniera letterale il vostro drone lavorerà più sciolto. I vostri motori saranno più sciolti sarà meno filtrato quindi chiaramente lo stick feel sarà leggermente migliore sarà molto più pronto e le risposte arriveranno subito. Diciamo è il feeling che piace a me specialmente a luce del fatto che poi metto rates sempre abbastanza alti. Una cosa che potete andare a fare qui importantissima secondo me su tutti i quad dai 2 pollici e mezzo agli 8 pollici è cambiare il filtro del notch dinamico in questo modo 0 250 90 350. Cosa va questo filtro notch dinamico? Fondamentalmente va a pulire il rumore del vostro quad che sarebbe osservabile con un'analisi della black box. Questi valori vanno bene per quasi tutti i quad standard chiaramente potrebbero non andar bene potrebbe essere necessario scendere con gli hertz del minimo notch o alzare il massimo notch ma non fa nient'altro che appunto andare a separare il rumore dei motori che all'incirca sta intorno a questa frequenza e andare a tagliare eventuali altri rumori e risonanze. Vabbè non sono cose che dobbiamo trattare in maniera super approfondita perché chiaramente se state osservando questo video probabilmente non avrete neanche la necessità di cambiare i PID. Guardiamo ora ricevente che è una parte molto importante della configurazione del nostro quad beta flight perché ci permetteranno di far capire al nostro drone a cosa corrispondono gli input che noi diamo sul radiocomando. Quindi in questo caso c'è la mappatura canali standard esistono dei preset oppure semplicemente potete vedere qual è la mappatura canali della vostra radio e andare a scriverla qua. Nel mio caso ad esempio ho reta e lo vado subito a segnare e quindi avrò sul canale 1 il rudder, elevator sul canale 2, trotto sul canale 3 e aero sul canale 4. Se non sapete che cosa sono queste vi invito ad andare a vedere la prima puntata che ho realizzato di imparare a volare in FPV e capirete tutto. Se volete poi impostare un canale RSSI avete il crossfire mettete AUX4 e vi spiego anche il perché. Perché AUX4 corrisponde al channel 8 sulle nano RX e quindi come state osservando abbiamo quattro canali per roll, pitch, io e gas e altri tre canali occupati per le modalità di volo e quindi l'AUX4 è esattamente quello di cui abbiamo bisogno. So gli aggiusti, il centro questa roba qua, lasciatelo tranquillamente stare. Spostiamoci invece su RC smoothing che su quad freestyle va benissimo così com'è. Se volete un quad cinematic andrete ad aggiungere ritardo qui sul lato smoothness ma potete alzarlo ad esempio a 30 o 40 in base a quello di cui avete bisogno. Chiaramente c'è una leggenda accanto a ogni impostazione di Betaflight come state osservando che vi permetterà di capire un pochettino meglio quelle che sono le impostazioni che state toccando. Chiaramente siete avvantaggiati perché quando io ho iniziato questa roba assolutamente non c'era. Su modalità di volo come abbiamo detto possiamo andare a collegare gli switch o gli eventuali bottoni di una Tango 2 a eventuali azioni quindi l'arm ad esempio che io utilizzo sempre su AUX1 lo vado a mettere qui da questo lato perché spostando chiaramente se avessi la ricevente lo vedreste il bottoncino della mia Tango l'arm ce l'ho da questa parte qui come l'ho impostato sulla radio. Se non sapete che AUX avete e state utilizzando non vi preoccupate perché basta che muovete lo switch dopo aver creato il modello e chiaramente aver creato il canale AUX e farà tutto in automatico Betaflight. potrete poi andare a impostare l'angle mode l'horizon o eventualmente il beeper di cui vi ho parlato prima o chiaramente qui sotto il flip over crash cosa importantissima se il drone vi casca a una distanza importante dove siete non vi va di farvi la passeggiata. Chiaramente fate attenzione perché c'è il rischio di bruciare gli ESC se il drone ad esempio è rimasto impigliato. Se andiamo su regolazioni non c'è nulla che vi interessi ve lo dico queste sono regolazioni di fino relative agli switch via. Su motori potremo andare a vedere quelle che sono le rotazioni e il motore corrispondente questo perché può succedere che molto spesso saldiate gli ESC magari girati di 180 gradi e quindi i motori siano sballati non vi corrispondono e quindi dobbiate andare a fare il research cosa di cui vi parlo quando andremo a vedere il CLI. Se clicchiamo qui su compresi i rischi andremo quindi a fare il motor test vediamo se il motore 1 è il motore 1 e se sta girando bene e poi chiaramente potremo andare sul tool di BLE lì a invertire eventualmente la rotazione e fare tutte le operazioni di cui abbiamo bisogno. Vi ricordo che per utilizzare questa modalità dovete attaccare la vostra batteria. Ci spostiamo su OSD che cambia molto se utilizzate VTX analogiche o digitali perché chiaramente nel digitale avrete qualche piccola cosa in meno che si potrà visualizzare. Per andarle a impostare è semplicissimo se cliccate su questo via o anche ne basta uno poi lo prendete lo andate a spostare e fate salva. Banale. Con il digitale invece non vedrete tutti come vi ho già detto ma vedrete comunque quelli importanti come gli avvisi, il voltaggio della batteria, eventualmente la freccia e le coordinate GPS. Qui su profilo OSD attivo potremo andare a impostare fino a tre profili OSD che magari potete collegare a uno switch in base al drone che state utilizzando. Formato video lasciatelo così. Unità chiaramente metrico perché utilizziamo i metri quindi sistema metrico decimale. Timer dipende se lo utilizzate o non lo utilizzate e potete selezionare varie opzioni disponibili. Su allarme potremo impostare degli avvisi che compariranno senza che stiamo sempre a guardare i nostri occhiali e eventualmente le informazioni che ci sono qui a schermo. Le avvertenze chiaramente ci permetteranno di mostrare un messaggio qui dove vedete low voltage potete mettere tutto quello che vi pare c'è addirittura ESC e GUAST o cosa che a me non è mai comparsa anche se di ESC e GUAST ne ho avuti parecchio. Statistiche post volo pure a vostra discrezione io tengo sempre ad esempio il voltaggio della batteria, levo l'utilizzo della black box e tengo la distanza totale di volo. Fate un po' a voi. Trasmettitore video è invece una parte che vi servirà solo e unicamente se avete una VTX analogica e questo ci permetterà di andare a cambiare le impostazioni dall'OSD. Quindi prima caricheremo questa VTX table che molto spesso è pubblicata sul sito del produttore della vostra VTX facendo carica da file e basta. Semplicemente andremo a settare la potenza, la frequenza e tutte le cose che chiaramente siete soliti impostare magari a mano con il tastino della vostra VTX. Vi ricordo chiaramente di salvare, 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 salvare. Potete volendo anche caricarla dagli appunti qui o scrivere da CLI la VTX table. Ora non ho nulla collegato alla scheda, mi dispiace se no ve l'avrei fatto vedere. Qui su striscia LED se siete amanti dei droni e delle cose sbrilluccicanti avete un grande vantaggio rispetto a quando ho iniziato perché potremmo andare a settare i colori e ovviamente i messaggi di avvertimento eventuali dei LED che avete montato. È fantastico. Guardate quante cose si possono andare a impostare tra le funzionalità, i colori. È insomma fantastico. Io non lo utilizzo quindi è inutile che vi stia a raccontare oltre. Su sensori potremmo andare a fare quasi una black box in tempo reale. Vi faccio vedere ad esempio adesso che ho il giroscopio attivato, se muovo la scheda che cosa succede e questo ci permette anche di capire se eventualmente il giroscopio è andato o meno. Potremmo anche andare ad accendere ad esempio l'accelerometro o il magnetometro, insomma l'altitudine, tutte le cose che supporta la vostra scheda. La mia scheda supporta anche il barometro, ad esempio che in questo momento è chiaramente spento, quindi l'altitudine se la vado ad attivare mi farà vedere qualcosina. Se ci spostiamo qui sul logging ci permetterà di fare log, non ve ne preoccupate, non è roba per voi. Black box è quella cosa che senz'altro avete sentito nominare, ci permette di registrare dei dati su una micro SD che avete messo sul vostro drone, e quindi andare ad effettuare il PID tuning di Fino. Però a me non piace, io non la utilizzo, l'ho usato solo una volta facendo questa cosa qua, il gyro. Comunque andiamo avanti perché ancora dobbiamo parlare del CLI, Clio, chiamatelo come volete. Adesso vi faccio vedere che cosa c'è qui dentro la mia scheda, tutte le porte della mia scheda. E perché vi ho fatto vedere prima questa cosa? Perché è collegata al resource che vi stavo dicendo prima. Se ad esempio vedete che nella sezione motori il vostro motore 4 gira, ma è il motore 1, in realtà quindi è invertito con il motore 1, dovrete andare a fare ad esempio resource motor 4A08, e poi farete resource motor 1, C09, insomma le andate semplicemente ad invertire, ma è pieno di guide online. Poi se avete problemi comunque scrivete qui sotto. Vedete anche le porte seriali e tutto che potranno essere utilizzate per eventualmente fare delle soft serial, cosa che comunque vi sconsiglio. Poi nel mio caso ho una SpeedB F7, quindi non ho assolutamente bisogno delle soft serial. Vi faccio vedere le ultime due cosettine qui sul CLI, poi vi lascio perché non ho neanche più la voce. E una è questa, dump, che vi fa vedere tutte le impostazioni del vostro quad, vi permetterà di andare a salvarle anche su un file o eventualmente caricarle da un file. Se avete fatto una build identica ad un vostro amico, vi piace come va il drone, l'avete provato, è appitato bene, potete fare carica da file e tutti i suoi file del suo dump chiaramente saranno qui all'interno del vostro Betaflight. Ricordatevi chiaramente di fare save, non con tutte queste e premere invio. Ora vi insegno l'ultimo trucco qui sul CLI per andare a flashare la vostra scheda, quindi ad aggiornarla senza dover premere il tasto di boot. Qui semplicemente BL, boot, loader e guardate un po', la vostra scheda è in DFU. Quindi potete andare qui su firmware flasher e andare a selezionare la versione di firmware che vi piace o addirittura andare a selezionare una versione instabile che nel mio caso chiaramente non credo nemmeno ci sia e basta, andate a flashare, fate carica firmware, flash firmware e direi che vi ho detto praticamente tutto. Scusate se sono andato veloce ma chiaramente non era un video specifico ma volevo spiegarvi tutto quello che potevate trovare all'interno del configuratore e tutte quelle che sono le impostazioni che potete andare a settare. Chiaramente qualche piccolo consiglio ve l'ho dato, valutate voi se può esservi utile o meno. Spero che questo video sia stato utile, se avete bisogno di qualche altra informazione non esitate a lasciarmi un commentino qui sotto e cercherò di rispondere nel più breve tempo possibile. Se vi è piaciuto poi il tipo di contenuto magari lasciate un bel like così io capisco e mi oriento su questa strada. E noi ci vediamo ad un prossimo video. Ciao a tutti, è Niccolò Oggiacas, FIP. Ciao a tutti, è Niccolò Oggiacas.